Prima di altre manifestazioni feristiche internazionali ha voluto dare questa formula, cioè in un momento di crisi, di difficoltà del mercato della musica in generale, occidentale soprattutto ovviamente, in cui tutte le fiere della musica avevano delle grosse difficoltà per tenere insieme espositori, quindi aziende che non avevano più soldi da spendere per presentare i loro prodotti e musicisti che avevano visto sfilacciare i collegamenti tradizionali del mettersi in mostra all'interno, quindi avere l'opportunità di visibilità, di stampare dischi, di avere successo eccetera, il film è stata la prima manifestazione feristica a ripartire dal basso, cioè, scusate parlo la voce. No, perché non ho avuto la voce. Ah, ok. Però io non ho avuto la voce. Sì. Ok, penso io dovrei sapere da questa voce. E il film è stato, il formato del film è stato quello, ripartiamo dal basso, cioè facciamo una fiera laboratorio, i primi anni del film è stato proprio questo, in cui ridiamo voce a tutti quelli che all'interno del nostro territorio nazionale avevano qualcosa da dire in termini di fornitura di servizi, di prodotti, di arte, insomma tutto quello che voleva essere proprio un laboratorio di visualizzazione di quello che era il mondo della musica in Italia, quanto possibile, ovviamente era una città in una località del nord, ovviamente, però il più possibile, proprio stato così, è arrivato anche dal fatto, il più possibile da quello che era il mercato della musica in Italia, insomma.